In questo stadio, oggi è una bella squadra, è una squadra in sci e quindi complimenti a voi altri, alla fine non è bene noi, ogni tanto voglio anche sci nel fondo. Come sta andando la vostra stagione? Sono attaccati al primo, è importante, oltre a quello che divertimento, è una bella squadra, è un'ottima società. I vostri obiettivi? Obiettivi? Il primo posto. Divertissi soprattutto, se si può avere sempre l'attacca del primo, almeno l'ambiente resta sempre, perché altrimenti vedi che se si comincia un po' a metà classifica per la fine, no no. È stata una bella partita oggi, combattuta, divertente, ha tratti da giocare, si è riuscito a giocare mica male la palla, abbiamo effettivamente ancora un po' di problemi a volte a giocarla, e avere un po' di tranquillità nel giocare la palla. Tante volte buttiamo forse via un po' troppo la palla, però bene, diciamo che rispetto alle ultime uscite è andata un po' meglio. e il verso non l'ha avuta sicuramente facile oggi, noi nemmeno perché lei è una buona squadra, infatti sono riusciti a metterci in difficoltà poche volte, ma sono andati a concretizzare con due gol su due occasioni, tre diciamo, uno a primo tempo anche nell'anno avuta. Cosa vedi da migliorare? Migliorare? Beh, continuare un po' in questo senso, con questo trend vuol dire cercare di avere un po' più di calma con la palla, perché comunque in terza lega sì a volte c'è un po' di pressing da parte degli avversari, ma non come nelle leghe superiori, quindi ecco, sfruttare un po' questi secondi o questi secondi a disposizione per ragionare magari un po' meglio e riuscire a costruire magari meglio il gioco, cosa che loro fanno bene, il verso sta fatto abbastanza bene, un po' anche la loro forza oltre all'attaccante che, insomma, la mette.